Un saluto a tutti voi, bentrovati all'ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la visita in Molise del Presidente della Repubblica della Croazia, la signora Kolinda Grabar-Kitarovic, una giornata intensa trascorsa tra le comunità di origine croata, cominciata da Acquaviva con le croce e poi proseguita in tutti i comuni che hanno il ceppo slavo. Un'accoglienza calorosa, ha raccontato la Presidente, è rimasta molto colpita del calore della gente che però poi ha puntato anche l'indice sulla necessità di avere dei collegamenti migliori e di investire nelle infrastrutture. Siamo comunque due popoli amici e confinanti, ha detto dunque la cooperazione è alla base dei nostri rapporti. Ma sentiamo il resoconto della giornata della signora Kitarovic nel servizio di Manuela Iori. Scolare in festa è uno striscione di benvenuto ad accogliere Kolinda Grabar-Kitarovic, Presidente della Repubblica Croata, oggi in visita nelle comunità di minoranza linguistica del Molise. Prima tappa ad Acquaviva con le croce, con l'arrivo scandito dall'inno croato prima e italiano poi e la consegna di un omaggio floreale da parte degli alunni della scuola elementare. Il capo dello Stato, quindi accompagnata dal sindaco Francesco Troglio e dal governatore Donato Toma, ha attraversato il paese a piedi, arrivando fino alla chiesa madre di Santa Maria Ester per un momento di incontro con i cittadini. Negli ultimi dieci anni si tratta della terza visita istituzionale della Croazia e Molise, a testimonianza dei rapporti consolidati tra le due comunità. Un momento per ricordare e per non dimenticare le radici storiche e culturali di un popolo. Quest'anno ricade anche l'anniversario dei primi insediamenti croati in Molise, che storicamente vengono fatti risalire al 1518, 500 anni fa. Il capo dello Stato croato entusiasta della calorosa accoglienza ha sottolineato proprio l'importanza di non perdere la lingua, che significherebbe perdere l'identità e la tradizione. E prendendo spunto dal suo incontro a Roma di ieri con il presidente Sergio Mattarella, ha chiesto apertamente alle istituzioni italiane di migliorare la vita delle comunità croate, a partire dalle infrastrutture e dalla viabilità, ammettendo di aver avuto difficoltà a raggiungere Acquaviva. Sono molto impressionata dalla bellezza dei vostri borghi e del vostro paesaggio. Ieri ho avuto l'occasione di incontrare il presidente Mattarella, con il quale ho parlato molto del Molise e delle comunità di origine croata presenti qui. Sicuramente queste comunità sono molto importanti per la Croazia. La lingua croata è stata purtroppo non tramandata alle giovani generazioni. Io penso che tra le attività da implementare ci sia la necessità di collaborare per il recupero e l'insegnamento della lingua. Ma non solo, occorre anche migliorare le condizioni di vita, specialmente in termini di infrastrutture, costruire strade, collegare i borghi tra di loro e l'intera regione molise con il resto d'Italia. La presidente Kitarovic ha anche ipotizzato programmi di scambio per gli studenti molisani per frequentare scuole e università croate. Un appello, quello sulla viabilità, che era stato già lanciato dal sindaco e su cui il governatore Donato Toma ha spiegato di aver avviato una ricognizione dei fondi. Ieri sono tornato dall'ANAS proprio per capire che cosa è stato impegnato nei prossimi decenni su questa regione. Per la verità è stato impegnato ben poco. Il nostro impegno è quello di chiedere al governo e all'Unione Europea finanziamenti da investire sulle infrastrutture di quest'area. È stata una giornata di festa per la comunità, come ha spiegato anche il sindaco Francesco Trolio. Noi abbiamo un proficuo rapporto istituzionale con l'ambasciata presso il Quirinale. Pertanto la Croazia quando dice cosa può fare per i creati che stanno in Italia, noi siamo l'unica minoranza croata in Italia. E' quello di poter insieme a noi fare sinergia per venire fuori dall'isolamento prima di tutto. All'incontro con la Presidente della Repubblica anche la parlamentare di Leu, Giuseppina Occhionero. Dobbiamo preservare le nostre origini, la nostra lingua che è il segno principale della nostra identità culturale. E quindi guardare sempre con favore a queste iniziative di cooperazione e di collaborazione. Soprattutto tra due sponde, come quella del Molise e della Croazia, che si guardano. E in mezzo c'è il mare, che non è qualcosa che divide, ma è uno spazio vitale che ci unisce. Dopo i saluti e l'impegno a rivedersi presto, la Kitarovic ha lasciato acqua viva per visitare anche Tavenna, San Felice e Montemitro. Il Governatore Toma ha rassicurato sugli interventi che sono in programma la Presidente della Croazia. Oggi i molisani di origine croata, ha detto, ritrovano il proprio passato, la loro storia, si sentono ancora più molisani. Abbiamo decine di progetti in corso nell'ambito dell'Unione Europea, ha detto il Governatore. Stiamo lavorando nella macro-regione Adriatico-Ionica. Continuiamo su questa strada, la strada della fratellanza, della solidarietà e della giustizia sociale. E ancora sulla parità di genere, sull'assenza di donne nella giunta regionale, da registrare l'intervento della Commissione per la parità e le pari opportunità, che invece ricorda che negli ultimi anni i movimenti femminili hanno dato segni di straordinaria vitalità. L'assenza di donne nelle istituzioni, ha sottolineato la Presidente della Commissione, Gabriella Faccone, il segno della necessità di modificare lo statuto e di adeguare le politiche del Governo alle richieste che arrivano da almeno la metà della società. Uno sciopero indetto il 1 giugno dai sindacati di categoria di Will e CGL nel settore poste per i lavoratori vessati, dicono, dall'azienda. Il Molise sostengono i sindacati e tra le regioni più penalizzate. Sentiamo. Motivazioni di natura lavorativa e sociale alla base dello sciopero dei dipendenti di poste italiane in servizio negli uffici aperti al pubblico indetto dalle segreterie regionali della SIC-CGL Will Poste per il prossimo 1 giugno. L'astensione dal lavoro, hanno spiegato i sindacati, fa seguito a una serie di conflitti di lavoro e vertenze aperti più volte dalle nostre organizzazioni sindacali e che mai hanno visto una seppur minima risposta da parte dell'azienda. Problemi interni, dunque, che vedono i lavoratori postali applicati negli uffici locali e abbandonati a se stessi, dice il sindacato, vessati e minacciati ogni giorno per una produzione sempre maggiore, atta a portare benefici ai capi di turno, ma anche relative a tantissimi operatori, soprattutto giovani, che con contratto part-time, che attendono persino da otto anni la trasformazione in full-time. Per CGL Will il Molise è la regione italiana in assoluto più penalizzata dai tagli indiscriminati messi in atto da poste italiane. In dieci anni si è persa la metà dei posti di lavoro. Di 1.600 addetti ora ne restano poco più di 800 e sono stati portati via anche molti servizi assegnati ad altre regioni. I tagli e le razionalizzazioni di poste italiane, osservano le parti sociali, hanno penalizzato tutte le zone interne e montane del Molise con gli uffici dei centri minori, che aprono a giorni alterni e la posta che viene recapitata a giorni alterni. E nel merito non sono assolutamente escluse altre ancora più gravi iniziative aziendali, hanno concluso Will e CGL. E' uno sciopero generale dell'industria domani mattina indetto dall'Unione Sindacale di Base che chiede a gran voce di fermare quelli che definisce omicidi sui luoghi di lavoro. Secondo l'USB ci troviamo di fronte a una catena inarrestabile di Sciagure, in quella che sembra una guerra scatenata da imprese e governi contro le lavoratrici e i lavoratori con il solo obiettivo di massimizzare i profitti. Per questo, secondo il sindacato, serve una risposta forte e domani a Campobasso è stata organizzata una manifestazione davanti alla Prefettura dalle 10 alle 13. La questione del depuratore del porto di Termoli passa attraverso l'entrata in funzione del depuratore del Sinarca con questo impianto, quello del porto, alleggerisce il carico di lavoro e dunque potrebbero cessare le mille polemiche che lo hanno investito. Sentiamo Fabrizio Occhionero. Un passo decisivo da compiere per risolvere una questione che si trascina da tempo tra disagi, attese e interventi da effettuare. La consegna del depuratore del Sinarca, una delle cinque ditte che hanno risposto alla gara del comune di Termoli, rappresenta un passaggio di non poco conto per affrontare e superare l'annosa vicenda del depuratore del porto. Una società della provincia di Foggia è stata selezionata per gestire il nuovo impianto, per ora con una durata semestrale, con tutti i benefici che ci saranno in termini di servizio. Appena entrerà in funzione, la struttura andrà di fatto ad alleggerire il carico del depuratore del porto e questo, in vista dell'estate, rappresenta un passaggio significativo. Si aspettano i momenti ufficiali che andranno a sancire l'avvio del depuratore realizzato in contrada Sinarca con le novità relative alla gestione dell'impianto. A breve ci sarà anche un'altra gara, quella che riguarda la stazione di sollevamento del parco, che servirà per indirizzare i refri a pantano basso verso la zona del nucleo industriale. Lavori che andranno a potenziare anche la rete fognaria con una condotta nel tratto compreso tra il parco comunale e la rotatoria di via Corsica e via Legadi. Obiettivo? Quello di far respirare in sostanza il depuratore del porto e ampliare e migliorare la gestione complessiva del servizio a rete per una popolazione sempre più numerosa. Alcuni telespettatori ci hanno segnalato una struttura in amianto in via San Giovanni in Golfo a Campobasso. L'edificio in rovina si trova vicino a case e a campi coltivati. I cittadini della zona hanno segnalato più volte il pericolo al comune di Campobasso e al sindaco ci hanno detto che si era impegnato alla rimozione dell'amianto. Nulla però è stato fatto finora. I residenti della zona sono preoccupati e chiedono un intervento immediato da parte dell'amministrazione. E a Venafro Luigi Ciavattini presidente dell'Associazione Benefica che opera a sostegno delle famiglie dei bambini curati dal Bambin Gesù a Roma è stato l'ospite di rilievo della manifestazione organizzata nell'anniversario della scomparsa della giovane Maria Nucci. Il servizio è di Enzo Di Caetano. La solidarietà non resta mai in panchina in ricordo di Maria Nucci iniziativa di beneficenza e solidarietà a Venafro nell'anniversario della tragica scomparsa di Maria Nucci una ragazza solare e simpatica ben voluta da tutta la cittadinanza quest'anno i proventi della manifestazione un triangolare di calcio per giovanissimi sono stati devoluti all'associazione Davide Ciavattini che opera nell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma presente alla manifestazione Luigi Ciavattini il papà di Davide. Siamo qui che rappresentiamo questa associazione che opera nel reparto di oncometologia del Bambin Gesù e assistiamo le famiglie e i bambini che sono affetti da leucemia o da tumori soliti. Noi attualmente abbiamo una struttura dove ospitiamo gratuitamente 17 famiglie abbiamo un pulmino che la mattina prende la mamma e il bambino e le porta in ospedale per fare le terapie e il pomeriggio le riporta in casa. Chiaramente ci sosteniamo con l'aiuto di tutti e questa è la giornata tipica che i nostri amici ci organizzano. Grande la partecipazione della gente all'evento organizzato al Marchese del Prete da uno staff organizzato e preparatissimo. Purtroppo Venafro ha visto la perdita di una ragazza che è conosciuta da tutti nell'età dell'adolescenza quindi appena sedicenne purtroppo da questa grave malattia che è quella del secolo il cancro la leucemia. Questo ha sensibilizzato tutti quelli a partire dalla famiglia poi tutti gli amici e quelli che vogliono apportare un valore aggiunto quindi far conoscere e sensibilizzare le famiglie e la popolazione con cittadini cari di Venafro ad affrontare un argomento piuttosto delicato che è quello della gioventù e quindi dell'adolescenza vissuta in quest'altra maniera. Infine le parole del papà di Maria Gian Piero Nucci che spiega le motivazioni dell'iniziativa. Ho scelto questa strada perché ho trovato in un'associazione Davide Ciabattini di Roma un'associazione che fa molto per i ragazzi e soprattutto per le famiglie dei ragazzi che non possono permettersi di stare in una città così grande con i costi che ci sono per vivere là e loro con la loro struttura con il loro senso che hanno perché anche loro purtroppo come me hanno avuto la stessa sciacura si sono attivati per far sì che tutte le famiglie abbiano tutto quello che serve per mantenere viva la vita in una città come Roma grande come Roma. Nasce in Molise per la precisione a busso una sezione territoriale dell'UNIR l'Unione Nazionale Italiana dei Reduci della Russia Presidente della sezione Molise è Carmela Picciano l'obiettivo è quello di riunire attorno all'associazione tutte quelle famiglie accomunate da un medesimo destino cioè quello di avere parenti e congiunti che sono stati persi nelle campagne militari in Russia durante la seconda guerra mondiale e ora parliamo di un'iniziativa che si ripete da qualche anno all'Istituto Pilla di Campobasso oggi sono stati consegnati gli attestati previsti nel progetto di educazione finanziaria ce ne parla Anna Maria Di Matteo La teoria studiata tra i banchi di scuola applicata alla vita reale è un percorso intrapreso da anni dall'Istituto Pilla di Campobasso al termine del quale vengono attribuiti gli attestati ai ragazzi che hanno partecipato l'iniziativa un modo per avvicinare la scuola e quindi gli studenti al mondo del lavoro e quindi alla vita quotidiana oggi nella storica sede di Via Veneto la cerimonia di consegna dei riconoscimenti il progetto si chiama economicamente fatto con l'ANASF i formatori vengono qui da anni a fare insieme a noi questo tipo di attività e i ragazzi fanno un approfondimento e diciamo quella che è proprio la pratica dell'economia quindi l'economia cosiddetta nel mondo reale quindi applicata alla realtà insomma assolutamente sì poi fanno anche dei test e delle attività online che poi come ben sappiamo quello è il loro mondo quindi c'è anche una classe virtuale dove loro interagiscono e adesso praticamente oggi c'è la consegna degli attestati ogni anno con le classi quarte del percorso di economia noi facciamo questa attività ecco come hanno risposto i ragazzi? ma devo dire molto molto bene anche perché è interessante perché è applicato appunto a quello che può essere il loro futuro come investire quelli che sono diciamo i loro soldi che cosa pensano del fatto delle pensioni insomma diciamo una cosa molto pratica addirittura un anno abbiamo fatto questa attività anche con un gruppo di detenuti che erano qui verso la scuola e anche loro pensavano la cosa particolare quella che era il loro futuro quindi calare la teoria nella pratica sì ed in questo modo è bello perché praticamente i professori lavorano anche insieme ai formatori ANASF e andiamo a fare delle lezioni iterative e gli studenti dell'istituto comprensivo di Sant'Elia a Pianisi hanno portato in scena uno spettacolo teatrale che ha messo al centro i drammi e i rischi del cyberbullismo e del bullismo più in generale il servizio è di Valeria Farina raccontare il dramma del bullismo e dei pericoli della navigazione sul web tutto questo è stato fatto dagli alunni dell'istituto comprensivo di Sant'Elia a Pianisi con uno spettacolo teatrale l'evento è stato il momento conclusivo di un progetto durato due anni e che ha coinvolto le scuole medie dell'istituto ad indirizzo teatrale e musicale di cui fanno parte gli alunni di Pietracatella Sant'Elia Pianisi Gambatesa Tufara e Macchia Valfortore i ragazzi dopo aver vinto un bando nazionale promosso dal ministero dell'istruzione con i fondi messi in palio hanno realizzato il progetto che porteranno in scena anche a Bari nell'ambito della rassegna teatrale Schenè noi siamo veramente orgogliosi di questa serata di questo spettacolo di questo copione che i ragazzi metteranno in scena questa sera è un progetto ambizioso che ha visto coinvolto il nostro istituto per ben due anni quindi da due anni i ragazzi lavorano su queste tematiche la nostra scuola è risultata vincitrice di un bando che ci vede scuola capofila in Molise per affrontare queste tematiche la rappresentazione teatrale è stata scritta dal regista molisano Marco Caldoro che ha seguito i ragazzi durante la realizzazione del lavoro dal titolo Bulli da riscrivere storie di ordinaria follina ho fatto un laboratorio con i ragazzi di teatro e poi a seguito del laboratorio abbiamo allestito il vero e proprio spettacolo che appunto si divide diciamo così in due atti regolari e poi ci sono vari interventi un po' per alleggerire la tematica del bullismo e comunque per fare in modo che sia più incisiva magari in maniera più leggera e alcuni momenti in realtà anche un po' più difficili però i ragazzi hanno risposto alla grande è stata un'esperienza veramente bella ecco li voglio ringraziare pubblicamente non solo teatro durante la serata santeliana ma anche la solidarietà con l'allestimento di un mercatino di beneficenza per i bambini meno fortunati dell'Equador soddisfazione da parte dei docenti che hanno guidato gli alunni in questo lavoro di sensibilizzazione ed educazione ai problemi dell'attualità è stata un'occasione per riflettere su questa problematica molto molto critica e soprattutto per cercare di stimolare ancora una volta quel sentimento di empatia di compartecipazione empatetica che fa riconoscere poi nell'altro un altro se stesso noi viviamo a contatto con adolescenti che spesso sono stanchi che spesso sono disinteressati e abbiamo bisogno di accendere dei fuochi di interesse il teatro ci aiuta in questo senso loro hanno reagito benissimo loro hanno avuto la percezione che stessimo andando nel verso giusto perché gli stiamo andando incontro sostanzialmente e stiamo cercando di trovare degli stimoli per far sì che loro possano effettivamente vivere questa esperienza didattica scolastica in maniera nuova hanno collaborato per la riuscita dell'evento i comuni di cui fa parte l'istituto comprensivo e diverse associazioni presenti sul territorio restiamo nel mondo della scuola e parliamo di un'altra iniziativa che coinvolge invece i ragazzi delle scuole medie di Isernia che hanno realizzato lavori con materiale di scarto nell'ambito del progetto Riciclarte tutti i monumenti della città saranno esposti nella sede prestigiosa del murseo archeologico di Santa Maria delle Monache Sergio Di Vincenzo l'inaugurazione della mostra è solo l'ultimo atto di un progetto che ha tenuto impegnati per mesi gli alunni delle scuole medie di Isernia grazie a Riciclarte questo è il titolo dell'iniziativa curata da Smaltimenti Sud in collaborazione con il Comune i ragazzi hanno realizzato i monumenti di Isernia con materiali di scarto ma soprattutto hanno appreso la pratica del riutilizzo creativo e l'importanza del riciclo hanno realizzato degli elaborati grandi e piccole opere sul tema del riciclo con dei materiali fondamentali che possono essere quindi la plastica l'alluminio il vetro il cartone e hanno realizzato quello che fa parte della loro città quello che è il decoro della loro città e in questo caso i monumenti storici e artistici quindi sono stati anche molto sensibili verso una nuova tematica soprattutto quella dell'arte contemporanea quindi si sono anche approcciati verso un assemblaggio creativo grazie alla disponibilità del polo museale del Molise le opere realizzate dai ragazzi saranno ospitate in una cornice di assoluto prestigio il museo archeologico di Santa Maria delle Monache hanno realizzato la fontana fraterna hanno realizzato Santi Cosme e Damiano la cattedrale di Sernia alcuni particolari che possono essere dei portali delle lunette dei freggi dei capitelli il monumento ai caduti e altri ancora che poi noteremo direttamente durante la mostra che sarà aperta anche alcuni giorni alla cittadinanza proprio per far ammirare loro quelle che sono le bellezze della propria città e hanno soprattutto studiato meticolosamente e minuziosamente qualsiasi particolare per far sì per esaltare i monumenti storici artistici di Sernia e a Sernia nello spazio d'arte 180 una mostra di arte balcanica quella di Liuba Jakupovic artista e musicista poliedrico di fama internazionale ce ne parla Enzo Di Gaetano emozioni in musica questo è il titolo della mostra di Liuba Jakupovic un artista poliedrico nato nell'ex Jugoslavia ma che da anni opera in Germania Gennaro Petrecca ha voluto le sue opere nello spazio 180 per una mostra monografica che attraversa tutte le stagioni artistiche di Jakupovic e resterà aperta fino a domenica 3 giugno Liuba Jakupovic che è venuto dalla Germania anche se di origini balcaniche con un put purri di quadri di opere che fanno però trasparire in maniera inequivocabile quella che è la sua ammirazione per la pittura italiana classica che lui stesso considera la madre di tutte le pitture quindi da Leonardo a Raffaello alla pittura del Rinascimento a Piero della Francesca tant'è vero che mi ha chiesto di accompagnarlo a Roma a vedere i Musei Vaticani quindi vedete come l'attrattiva dell'Italia resta forte in tutto il mondo e le attività della galleria proseguiranno oltre con Liuba che è un eccesso musicista un trombettista jazz infatti abbiamo montato nell'altra sala della galleria un pianoforte con la sua tromba per fare anche improvvisazioni jazz continuerà con altri artisti provenienti da Roma il prossimo completamente diverso poi un artista di Palermo insomma diciamo che questo sta diventando piano piano con grandi sacrifici però uno spazio riconosciuto in tutta Italia avendo diverse richieste ma cosa esprime l'artista slavo nei suoi quadri e con la sua tromba ricordiamo infatti che è altrettanto famoso sia come pittore che come trombettista ci dice che è molto contento di essere venuto in Italia di aver portato una selezione di circa 26 delle sue opere e lui è nato in Kosovo ma vive in Germania e soprattutto che la sua natura artistica la sua vocazione artistica risente molto dell'influenza dei pittori della scuola russa ed è tutto anche per l'ultima edizione del nostro telegiornale che andrà in replica fino al prossimo appuntamento in diretta con la nostra informazione la rassegna stampa di domani mattina grazie per essere stati ancora con noi e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti